Buongiorno! Oggi andiamo a Movieland! Dite che sono stanca? Ciao amici, sono la Cata del Futuro, che è già tornata a casa, per avvisarvi che questo vlog è molto caotico. Non penso si capisca bene com'è andata la giornata, però è un ricordo carino che ho con i miei amici per il complanno di una mia amica e mi sembrava carino condividerlo, anche se non ha un senso, però è carino, quindi anche se forse, anzi quasi sicuro, non capirete niente, lo condivido con voi, perché è un ricordo e spero vi piaccia, malgrado sia un caos. Buona visione! Buongiorno! Come state? Bene, andiamo! Buongiorno! Buongiorno! Ma stai chiamando uno? No! Buongiorno! Buongiorno YouTube! E buona colazione! Siamo arrivati! Here we are! Sono abbalato! Grazie! Ciao! 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 Mi fa un po' paura! Fa tanta paura! Ma no, dai, carino! Per favore! Ma dai! È lì per i bambini, guardate cosa state facendo! Ma è carino! A me piace! A me no! E mi ha così paura, però! Oddio, questo è guida! Oh mio Dio, segui veramente! Stiamo per entrare nella Casa degli Orrori! Fa già paura così! Aiuto! Sarà fichissimo! Questa è maniera di protagonismo qua! Allora, la Casa degli Orrori, spaventosa ma non troppo! Pichissima! Siamo usciti perché lei stava piangendo! Tu guidi così! Tu così guidi! E' stato pochissimo! Ma è stato pochissimo! Ricontriamo dell'aria! Raga, che caga! Mamma mia! Sto chiamando! Che paura! Aveva così tanta paura che non riusciva a urlare! Così! Mamma mia! Bellissimo! E' bianco! Bellissimo! Bellissimo! Facciamoglielmo! Quanto siamo? Sexy? Così Alice! Sexy? Cosa c'è scritto? Lo dì Alice! No! Ho sbagliato test! Movie Land! Sembra quell'uomo! Ci metteremo una villa, c'è troppa fila! Compriamo la mantellina perché c'è il rischio di bagnarsi! A due euro e due cinquantini qua! Pensavo la foto! No! Devo mettere la mantellina! Mi sa che l'ho buttata! No! Ma dai! Le forse! Boh! Glielo chiederemo! No! Ma le fanno? Sono i corsi eh! Per me! Vai così sì! No! No! Devi aprirla! Yes! Ma dove sei? D'altrario! Aspetta! Qua c'è la testa! Ecco! D'altrario! Follia! Eh! Prima dove è che si sapevi gli ultimi due euro! Povero! A me è andata bene! Dai! E gli altri è andata bene! Eh! Oddio! Io rischio la vita! Ma c'è anche tutta la vita! Tu stavi per volare via! Ma io prima o poi non ho il posto per te! No! Sì! Andata! Dopo mezz'ora di fila andata! Momento shopping! Perché? Cosa? Perché? Perché sì! Perché ha un momento shopping? Perché... Sì! No! Perché? Perché sono slozzi! Perché sono slozzi? Sono slozzi? Non lo so! In italiano lo usano slozzo! Sono slozzo! Sono... 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 Zuppi! Zuppi! Sono zuppi di acqua! Io sono una zucca! E quindi, niente! Stanno cercando dei pantaloni! La truppa torna asciutta! Truppa asciutta! La truppa asciutta! Truppa asciutta! Truppa asciutta! Truppa asciutta! Truppa asciutta! Ma mi stai trovando la pantuta! La pantuta non la credo! American boy! Allora, vi consiglio vivamente questo posto che... Come si chiama? Boh! Questo ristorante perché vi regala il gelato! Magma! Magma! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito a tutti! Buon appetito! Lei ha i panini! Buon appetito! Buon appolo! Sta iniziando a piovere! Oddio Giorgio! Correte prima che se ne accorga! Oh mio Dio, abbiamo... Abbiamo dimenticato una persona in bagno! E ce ne siamo andati così! Ma cariche proprio! Comunque questo video era per dirvi che ha iniziato a piovere! Ciao! Ciao! Dai un voto a Moviland da 1 adesso! 3 6 8 6 Dai un voto da 1 a 10 a Moviland? 6 6 6. Tutti votiamo 6. Ma com'è possibile? Stranissimo. Non capisco come cavolo sia possibile, tu lo capisci? No. Bruttissimo, non fatelo dopo mangiato come abbiamo fatto noi. Pessima idea. Terribile, giuro. Ci viene a tutti da... Ma si dice vomitare in modo carino? Rigurgitare. Rimettere. Rimettere. Sconsiglio dopo pranzo. E dopo aver quasi vomitato facciamo le gesto per i bambini. Perché no? Perché no? Octopus in azione. Eh, mica scontato però eh. Ciao amici. Noi siamo i cagasotto. Che aspettano alla fine? Adesso... Vieni a filmare che stanno facendo. Cata mi uccide, che è il giro in mente per me! Fine! Viva col buio! Salutiamo Movieland. Finito. 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 Ancora auguri a Raffaella Marra. Grazie a tutti per aver assistito a questo video. Lasciate like, commentate, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video!